E chiudiamo con il gol realizzato dal Galles sulla Norvegia, Swansea, che ha dato la vittoria per 1-0 ai gallesi sui norvegesi, più un autogol che un gol come è stato attribuito al gallese Rush, un autogol quasi del portiere Nigord. Rivediamo a rallentire le immagini di questa rete, di questa azione poco fortunata per il portiere norvegese, con la quale chiudiamo la nostra pagina di oggi per lo sport.